Secondo il Consiglio di aggiornamento delle unità di crisi sono emersi 871 nuovi contagi per coronavirus in Regione Campania. Il dato emerge dall'analisi di 30.583 tamponi. I deceduti sono 7 nell'ultimo 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Numeri in salita anche per i contagi nella provincia di Salerno, infatti, sono 169 nuovi positivi a renderlo noto del Ministero della Salute. Anche nella città capofila della Piana del Sere sono stati segnalati due casi di positività al coronavirus individuati negli ultimi giorni nel reparto di medicina dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. In una nota dell'asolo a Salerno si legge che entrambi i pazienti sono stati prontamente trasferiti nel centro covid dell'ospedale di Agropoli con ambulanze speciali anti-contagio. I due reggenti sono stabili e in buone condizioni. Il direttore sanitario del presidio ospedaliero Mario Minervini ed il direttore della UOC di Medicina Vincenzo Patella chiariscono che hanno deciso di sospendere precauzionalmente i ricoveri in reparto fino a normalizzazione della situazione. I pazienti già ricoverati intanto sono stati messi in isolamento e sono costantemente monitorati, così come tutto il personale operante nella struttura. Infine sono stati inoltre attuati tutti i protocolli di sanificazione e profilassi. Il pronto soccorso dell'ospedale ed il servizio 118 sono stati prontamente allertati e provvederanno a smistare i ricoveri presso altre strutture fino a nuovo ordine. Invece il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina Facebook lancia la provocazione. Il lockdown per i non vaccinati sarebbe il minimo. Mi auguro ovviamente che di fronte a questa quarta ondata si capisca che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti quanti. Chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità. Siamo già partiti con la terza dose per tutti i cittadini.